ok andate tutti a controllare dovremmo esserci sì c'è tutto sono le tag che c'è il gioco tutto ci c'è ciuccio sì perfetto perfetto allora alti come va suori è che so che oggi sei andata avanti ah sì bene bene non c'è male procedi è giusto così piano piano arriverai verso la fine tusio bello su mafia come procede invece procede non c'è quel programma è scrivo su google scrivi cicliner lo scarico mi raccomando quello free e non quello a pagamento allora alti ricordiamo ricordiamo cosa proseguiamo adesso sol cali bursa ecco vediamo se riusciamo a finire sta modalità va si chiacchiere via tra l'altro per sbrigarmi sto leggendo nella mente che mi sono rotto le palle di leggere quei discorsi inutili e stupidi così mi sbrigo prima allora allora dove sei capolavoro videoludico ecco di qua comando alti avvisami sia quando appare il gioco e sia se tu dovessi sparire sì cosa è il coso cicliner 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 to looper numeri uno è perso qualcosa alti sì sì però non mi è ancora passato una cosa cosa non mi è passato l'arcade stick esatto perché non sono come alti che gioco senza le mani io non so giocare senza le mani io ho bisogno delle mani le mani mi aiuteranno ad andare avanti intanto ci ha raggiunto mano che qui con noi è appena finito la sua bella live com'è andata la live è andata avanti ti sei bloccato cosa è successo a una certa mi sono bloccato però sono andato avanti ma ho una domanda tutti sei bloccato al buco sei passato oltre al buco al buco ma ok il buco non perdona il solito samurai nuovo capitolo configgi l'avversario ok sono andato diciamo mano te conoscete una app per pulire il pc da tutti i falli inutili cicliner ecco per mano perfetto ok ho girato live mano è stata un po strana perché ogni tanto è avuto dei problemi ma per il resto non è andata malissimo non è stata come quella volta che arriva una costante di disconnessioni alti e bassi alti e bassi ovviamente stasera andrò via prima verrà il mio lavoro che mi attende domani ti fai carino io sono figo sono carino fino in segno ho detto figo ah mi dico franco è una certa somiglianza che figo ring out a 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 tra l'altro stiamo vedendo un filmato ragazzi che non si vedono praticamente quasi mai in questo gioco eh se fossero stati sempre così sarebbe stato qualcosa di epico e dopo ore e ore di gioco vedere un filmato così veramente come trovare una pepita in mezzo a montagna di merda sono quasi incredulo di quello che sto vedendo eh sì quindi è lui il mio avversario, il Gerardo probabilmente l'hanno fatto giusto perché c'era lui sto filmato ah c'è anche la musica originale del gioco figo 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 e modo lo scrivo per me non penso che si chiamasse non lo conosciamo è un punto lo scudo telegram mi è arrivato una richiesta da amici città su dscord si chi è il fortunato non è fortunato sicuramente tirate il messaggio del telegram ora vado a vedere ok ok colpito in pieno colpito è affondato? no affondato adesso si era salvato con uno spudo hai visto il nome comunque? che si ho visto perfetto non è ancora presente ma darlo d'occhio guarda è bella la cosa la cosa zio bello? la switch eh si lei gioca lei gioca e si diverte che è lungo questo gioco fortunatamente fortunatamente cosa mafia 3? la mafia 3 è bello io non ho provato mai fastidio giocavo ed ero sempre felice no non è quello il discorso pure io sono contento sempre di sentirlo e di giocarlo però minchia ti prende così tanto che quando ti finisce ti rimane un grande vuoto è vero è vero è vero perché è abbastanza lunga e abbastanza coinvolgente tu mano hai giocato anche il dlc o solo il gioco base del terzo? non sono il base eh non sono male il dlc è molto figlio addirittura ce n'è uno dove vai su un'altra isola ah si ve lo ho fatto beh ah no aspetta mi è venuta in mente una cosa allora le combo dell'avversario causano più danni sconfiggilo ok ah ah tutti i florenti eh alti a quando la prossima live smr? no e non è quando la prossima live smr? Non lo so, si vedrò Quello non andava bene l'ultima Era rilassante, molto rilassante Ah, ma io la notte non faccio live No Prima o poi faremo belle collab Stai tranquilli, soprattutto quando la signorina Avrà una scheda video migliore, vero Atti? Sì Ti divertiremo Oh, sempre che fai riguardo, sempre offenderti E offenderti, stai buono tu Se non la regali te la ce l'hai mica Io gliel'avevi ridata, purtroppo l'ho data a qualcuno che non vuole ridarmela Quindi non posso aiutarlo Gliel'avevi ridata anche a un prezzo sottostimato, 50 euro Cicalone? E' uno della Zanzara, del team? Cosa? Scuola di botte Scuola di botte? Ma non la conosci, scuola di botte? No Ma tu credi che tutti i soggetti di Roma li conosco io? Perché sono di Roma Ma per chi mi hai preso? Ah, io frequento la creme della creme Mica i valordi per strada che si scaccolano a vicenda Ma perché mi hai preso? A malapena conosco quello che imita Fantozzi Ma giusto perché l'ho visto su Youtube, sia chiaro Non lo puoi controllare? Vedo un elemento in più tra gli spettatori, per favore Vediamo No Ok, a posto Ah, se appare parlo stavolta eh Aha Non starò zitto Intanto ho messo un nuovo comando per la chat Sì? Tipo? Ho messo il comando Amazon Ah, così ricordi il tuo link e la gente magari ti viene incontro Eh sì Eh sì Ci sta Ci sta Ah 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 Cosa? Io l'ho risposto. Ti ha sentito qui? Io ho detto a tutti se la ricordano. Sì. Io e lei non me la racconta giusta. E i bambini adesso saranno tutti i genitori. Almeno qualcuno lavora anche per strada di notte. No, non serviva. Vabbè, passiamo. L'importante è vincere, dai. Ah, sì. Oggi RT è stata una cattiva bambina comunque. Perché? E' digrignato troppo, non va bene. Te lo devi levare sto vizio. Non voglio che ti ritrovi a meno di 30 anni a mangiare zuppe per sempre, capito? Te la devi godere la vita, la devi assaporare. Da quando mai è una tua prossima liveeerle? Nel grande centro commerciale, linea ID content. E' stato Garza. A fare cosa? A fare... A scrivere il messaggio. Sì? Sì. di gente che si gratta le palle, eh? Ogni volta che scrive lui. Non mi trovo una data. Anche io. Io ho scritto gratta palle e mi è apparso l'indiano. Cosa scrivete voi? Cosa appare da voi? È perfetto. Questa panna. Ma guarda ce ne sono di meravigliosi. Ora ve li mando in privato. No, no, ora ve li mando in privato. Perché non devono sapere lì. Voi siete senza speranza, non avete fantasia. Allora, sei pronto? Manu, ora te ne mando un po'. Poi le mando un po' anche a zio bello. Allora. Uno. Se poi cazzo abbandonare il gruppo, chi se la prenderà? Due. No, non l'abbandona. Non l'abbandona. Lui è contento di stare lì. Ah. Madonna. Cioè io non so cosa cercate voi, guarda. Ma che scrivete? I teletubbies? Tra poco è il momento di zio bello, eh. Preparatevi. Eh, tra un po' capirai. Per noi era bellissimo. No, no. Ora li mando anche a zio bello e poi decidete fra questi e diventerà il vostro simbolo. Io avrei scelto l'ultimo, ma è piccolo. In che senso è piccolo? Eh, si vede troppo in piccolo rispetto agli altri che mi hanno dato. Per noi era bellissimo. E allora, perdo il secondo. Aspetta, non fare niente. Aspetta, devo mandare anche a zio bello. Come vedi ce ne sono, eh. Come vedi ce ne sono, eh. Allora, adesso decidete. Eh? Da voi questi non c'erano. Eh, vabbè. Si vede che io sto in Italia e posso vedere cose più belle. Un motivo in più per tornare in Italia. Io prendo le mucche. Sì? Le mucche viola? Se sei io. Allora, aspetta. Lo mando anche ad Alti. Lo mando anche ad Alti. Anche Alti deve scegliere. Lo mandate io, lo ho prese. Zitti, zitti. Come anche tu. No, le mucche sono mie. Sei io. Ma no, maledetto. Le mucche sono mie. No, no, chi l'ha detto per primo delle mucche? Io. Io. Eh, allora mando. Allora l'abbia da io, però, prima. Ma come l'hai già inviata? Eh, certo. Ma sei un infame. Eh, allora se l'hai presa lui, mi spiace. L'ha mandata per primo. Sì. L'ha preso i canguri. Ok. Oh, ma deve diventare il vostro simbolo, eh. Cioè, se voi mandate quello, quando parla lui dovete mandare sempre la stessa, eh. Sì, sì. Alti, tu quale vuoi? Di quale che mi hai mandato? Sì, i due mucche e i canguri sono presi. No, i canguri, uffa. Eh, eh. Troppo tardi. Puoi prendere il ballerino, no? Il ballerino fluido. Che ne pensi? A me ne è particolare, no? Rispetto agli altri. Eh, uno è seduto e si gratta le palle. L'altro è disteso e si gratta le palle. È roba banale. Ti piace il ballerino, alti? Sì, però preferisco i canguri. Vabbè, è andata così. Nella vita bisogna accontentarsi. Quindi, mano, alti, mancate voi. Fatelo prima che scriva qualcuno, per favore. E mi raccomando, deve essere automatico, eh? Appena scrive lui e vi sentite di farlo, agite. Comunque, le mucche sono meravigliose, se lo devo ammettere. Eh, infatti, erano la mia scelta le mucche, maledetto. Ma che fate? Maledizioni, messaggi in oltreo da Valentino. Non deve capire che c'entro io. Ah, eh, 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 eh. Come si elimina sta roba? E gli avevi direttamente le chat. Ah, aspetta, io posso agire. Calma, calma. Sì. Eh, deve essere una cosa vostra. Non va bene così. Poi pensa che siamo una mafia organizzata. Non va bene. Aspetta, no, eh, dovete farlo voi ognuno per voi, perché qui mi credi, sai. Allora, aspetta, facciamo così. Hai messo rimuovi per tutti? Ma avete fatto tutto? No, aspetta. Ok, bravo, bravo, zio bello, ci siamo. Ora tocca ad alti. Vediamo se avete capito come funziona la situazione, eh. Tecnicamente sì. Garzo non sta ancora guardando, eh, sta ancora in tempo. A posto. Ok, manca alti, manca ancora alti. Alti, alti, va. Ma io non voglio farlo. Come? Ma perché? L'avevi mandato e mo' ci hai ripensato. Vabbè. Ma so' coole simpatiche. Mica gli stiamo dicendo di bruciare vivo mentre dorme, eh. Anzi, lui è pure contento quando vede queste cose, perché dice che bello. Mi considerano in questo gruppo. Eh, sì. Abbiamo grande considerazione di lui. E' contento perché nessuno gli risponderebbe vero, se no. E' bello essere considerati. Lui è il più fortunato di tutti. Ma dov'è quello di Alti? Ancora non lo vedo. Eh, non lo trovo. Come non lo trovi? Ma hai eliminato la chat? No, ho eliminato per sbaglio prima quello nella tua chat. Invece che quello nel gruppo. Ora risolviamo. La tecnologia non è il forte di Alti, abbiamo capito. Ah, ma è un gatto. Se l'ho rimandato. Dai, devo finire questo gioco, Alti, rapida, dai. Stiamo perdendo tempo. Ma l'altro a me non lo ha messo come gif, ma lo ha messo come immagine. Perché? Perché infatti lo vedo fermo. E' brutto, è brutto il tuo. Levalo subito, che schifo. No, non esageriamo. No, non deve essere uno spam. Cancellalo. No, no, no. Zio Bello, ci sono delle regole da rispettare. Poi pensa che qui facciamo bullismo nei suoi confronti. Non è vero, non è vero. Levati sto vizio. Vai, ti blocco, eh. Maledetto spammone. Non c'è nessuno che non dice qui, allì. Dove c'è lo spam? Me lo porti. Maledetto. Anzi, fammi andare a vedere. Se sbagli ti blocco. Ok, non l'hai fatto. Bravo. Tengo d'occhio, eh. Stai attento. Oh, i canguri si muovono. Alt, hai visto? I canguri si muovono. Sì. Tra l'altro, quello che ha mandato alti, sembra mano. Ma no, ti somiglia tantissimo, eh. Ma no. Il tuo stesso movimento pelvico. Carino. Non credo. Non credo proprio. Mano versione fluida. No. Qual è la gioia di molte casalingue. No. Ok, andiamo, va. Ah, già. Altima, la coppia vuole rimanere ancora lì da sola? Dove? La coppia. Ah, boh. Gli antigeni sono venuti. Che è successo? Boh. Hanno paura di mano? Dovrebbero. Gerry, non avere paura. D'altro, se l'età, ha messo il follow-up. Sì, sono nove ore fa. Vabbè, no. Se una persona così cattiva, devo avere paura. Tutti devono avere paura di me. Anche tu? Io mi tegevo. Sì. Dove è Gerry, polemica? E Tony Sperandio lo l'hanno nascosto. Eh, chissà. Come va, Necoland? Bene, bene. Sto cercando quali sono gli pesci e gli insetti da trovare ad aprile. E quali sono? Eh, ce n'è un po'. Lo sa. Ah, Tim, ma tu quando porti i giochi in live, da dove li vedi? Dallo schermo del computer o della Switch? Da OBS. Ah, per la proiezione che te lo mette a schermo intero? No. Ah, tu giochi qualcosa in piccolo, non ho capito. Sì, sì. Però puoi metterlo a schermo intero se vuoi. Non lo so. Come non lo so? Io so gente che fa la stessa cosa e lo fa. Void lo fa a schermo intero. Eh, così è una merda, se no, scusa. No, te l'ho chiesto perché volevo sapere a schermo intero se la qualità perdeva tanto rispetto a giocarlo sul televisore oppure no, capito? Io prima di fare questo passo della scheda voglio avere tante informazioni a riguardo. Allora, i tagli della bersaglio causano più tempo. Ok, vai. Tra l'altro ci stiamo avvicinando all'Italia, eh. Fra poco siamo in Italia. In Italia. Ma anche in chiamata abbiamo una bambina. Parlate bene, rispetto. Parlate bene, rispetto. E io non mi vergogno, se non c'è da un'istante. Io ho i danni che ho. Ieri Jerry mi è piaciuto con una risposta che ha dato. Quando hanno detto, quando vuoi, quando è che uno è vecchio? E lui ha detto, da morto. Bene, effetti. Non è una torta. Oggi ho visto un nuovo video di Yotobi, caricato Giorni Orson. Sì, di cosa? Parlava di una vecchia serie che nessuno probabilmente ha mai visto. Tipo? Via Zanardi 33. Ah, sì. Ho visto. Ah, è pure italiana. Eh sì, è girata a Bologna. La sigla era dei Lunapop. Penso a te. È il vecchio gruppo di Cremonini. Sì, sì. Ma dove la davano sta roba? Italia 1. Nel 2001. Eh, ma ci sono stronzi famosi. Io riconosco alcune famose. Sì, sì. C'era Dino a Brescia. Quello che faceva il cugino di Checco. C'era anche Elio Germano. Sì. Dino Brescia. Silvestrin. Silvestrin, certo. Loro erano tre coinquilini. Praticamente il Franz Italiano. Mai vista sta roba? Ma neanch'io. Cioè, la conoscevo di nome. Ma quanto è durata sta roba? Due giorni? Penso una stagione. Hanno fatto una ventina di episodi. Ma che ora davano? Di notte? Eh, credo di sì. Io stavo svegli apposta per loro quel periodo. Guarda. Eh. Ho detto, eh, devo stare sveglio che c'è la mia serie preferita. Eh, ma no. Il Franz Italiano. Infatti, Nat. Cosa mi dice che ha fatto flop? Sì. Eh, ma poi c'erano anche delle Gestar, eh. C'era Paola Barale. C'è stato Cremolini. C'è stata... Cosa? La D'Urso. La D'Urso sempre, eh. La D'Urso che però all'epoca faceva ancora la Dottoressa Giop. E infatti è apparsa come Dottoressa Giop. Beh, lei era apparsa anche in un altro come Dottoressa Giop. Vediamo se te lo ricordi. Tutti? In tutti i giorni era deficiente. Eh sì, me lo ricordo che appariva. Quando uno stava male era apparsa lei a saluto aiutarlo, a curarlo. È vero, è vero. È vero, è vero. Ha fatto il cameo. Eh sì. E' inquietenti. Quando ancora non ci sfracanava i maroni, programmi per casalinghe. Casalinghe, esatto. Ciao. Quell'epoca in cui lei si pensava... Si credeva un'attrice, ecco. Ha lavorato anche con Pozzetto, non ce lo dimentichiamo. E lui ha dato anche una gasata. E non ci ricordiamo anche che lei è stata la donna di Vasco. E anche lui ha dato una bella gasata. Eh, già. Se è quel periodo, fra gli 80, 90 e i primi dei 2000, se la sono gasata in tanti. Secondo me è anche un po' silvietto. Eh, bunga bunga, c'era anche lei. No, nulla, nulla si può sfuggire. Non la sfuggire. Comunque forse ho capito perché il tio Bello è scappato dall'Italia. Lui si è ciulato qualcuna che era la moglie di qualcuno importante. E hanno messo una taglia sulla sua testa. No, con vicine gente, aveva un giro. L'hai messo nel buco sbagliato, l'hai messo nel buco sbagliato. L'ho messo nel buco sbagliato, a un certo punto mi hanno ricontattato dicendo se va vai e sono scappato. Scappa. Get out. Tu ti hai rifatto la donna di Paolo Limiti, l'ho beccato. Eh, sì, eh. Ti sei finto lui nella penombra e lei ci è cascata con tutte le shoes. Ha detto sì, sono il tuo limitless. La penombra. La penombra. Oh Oh, un altro filmato. E che è? Che è sto miracolo? Cosa? Sì. Oh C'erano cose state Sì, te l'aspettavi? Stavo pensando a come scappare dall'uccellone in ori Sto ancora cercando di ricordarmi Sicuramente la strada che stavo facendo Noi abbiamo suggerito un mezzo come parlo Sì, sì, andare a vedere un gameplay, non lo farò Quarto capitolo Perdita di tempo Tu sei pro o contro il video game player? Dipende, rarie volte mi è capitato anche a me Però solo quando ero stremato c'era un bug che era un palese bug Quando sei bloccato, riesci ad andare avanti Riesci a capire come andare avanti Non c'è nessun modo per andare avanti Secondo me un modo c'era solo Quando arriva un limite limite può essere che lo faccio Ma deve arrivare proprio un limite di scassamento di coglioni Secondo me un modo c'era Perché allora io lì cercavo di scappare dall'uccello Saltando sui cosi luminosi ma poi mi prendeva Però a destra vedo che c'è un ragno che spara E vedo un ramo, un tronco che si può rompere Però non gli andava a sparare sopra Ho provato a indirizzare lo sparo ma non è andata Però secondo me si può rompere Quindi tenterò di... Eh sì, tento, tento Tenten? Sì Eh tenterò di... Sai dov'è tenten? Lo sanno tutti dove è tenten Eh... Francia se non so No, sbagli Come no? No No, è peggio E mica solo tenten Anche i puffi Anche i puffi sono Sì E sai come si chiamano? Eh... C'hanno un nonno Se vuole sentire il bel nome Sentiamo... I stronti Ecco Si mangiano? I stronti I gazzosa? C'è... Poi c'è anche... Non mi ricordo... C'è stato un altro personaggio Non mi faccio prendere la mezza specie di tigre Che belga Che belga Asteri Oberix Sontenti No, quelli sono francesi No, quelli sono galli Eh appunto Che vanno un culo così State attenti Porco, due Eh... Sbagliato Non far passare per page tutti quelli che esistono Perché sennò... Sennò... Domani saremo anche noi page, vedrai Sì E vai in film Qua, quando ci stiamo a fermare questa azione Qualche cose si fanno spesso da Asteri... Asteri Oberix Sì, ma son francesi Pure qualcosa di importante Tipo che ne so Ci sta le feste... E vai a lavorare in Germania Come ti ha detto Marta E lui ha detto che non è bello lì Ha conoscenze che dicono che è negativa la Germania La Germania è grande Non è come il Belgio che è un buco La Germania è una nazione Sì, come lo sai c'è stato? Eh... No, però si vede dalla cartina che la Germania... Certo, Mano, però sai che te lo dite Questa storia Che lo fa? I Beleschi Allora, comunque Marta ci ha lavorato tre anni in Germania E vede ancora qua Poi io conosco cose... Barbaroffa che vive a Berlino da... Anni Berlino della casa di carta? No Però vive a Berlino da... Saranno cinque anni ormai Ma lui è raccomandato Il nostro zio bello è nessuno, che può fare? Vabbè, anch'io sono nessuno Anzi, io probabilmente... E allora facci, no? Probabilmente io avrei meno possibilità di zio bello Perché io non ho... Non so cucinare, ad esempio Cioè, oddio, so cucinare per me stesso Mi sono arrancato Ma non potrei mai lavorare in cucina Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ti posso dire che qua ci sono persone Che inizialmente io ho un medal meccanica E ora sono chef di cucina Hai visto? Hai visto? Un giorno diventerai anche premier E tu dici, come puoi essere stasora? Anche al ristorante è così Vabbè, comunque... Io sono io Quindi ora vai in Belgio, ma non ti ha convinto? No Io se dovessi mai andare all'estero Andrei Vediamo In Turchia? I posti che mi attirano Ma vai in Danimarca, che lì la vita costa poco In Danimarca costa un casino la vita, altro che Come? Tutti quelli che hanno la pensione vanno lì In Danimarca? No Ad esempio ci sono i genitori di un mio ex compagno di classe Che vivono in Portogallo Il Portogallo è bello E che vanno a fare in Portogallo? Sono andati in pensione e si sono trasferiti a Porto Ma vanno a te, mi fanno a te Io te ne dariamo Si, che si A Porto si sono trasferiti Stanno lì da qualche anno ormai E ogni tanto i figli li vanno a trovare Sì Quindi vuoi essere il re del Portogallo? No Emanue Furbo va lì, così con la sua pensione Canta come un re Io non ho la pensione Vabbè quando ti fai vecchio no? Eh, canta cavallo Cazzo mi danno la pensione sociale Sì? E' vero Eh, non ho i contributi per avere la pensione da lavoratore E no E no, eh, infatti Ah, hai fatto dare l'invalidità allora Eh, uh Fai come faceva Benigni, no? Che gli tremava la mano Eh sì eh A me trema la gamba a volte Dipende come la metto Quale delle tre? Eh, una delle due Laterali Di solito la destra Però anche la sinistra ci si mette qua La centrale no, non trema in quel cuore Ma che ne so, un altro posto che potrebbe attirarmi La Grecia La Grecia è sempre stato un paese che Lascio guardare la Grecia Sì, lo so che c'è la crisi Lo so che c'è la crisi Hai scelto loro il posto giusto Però, no, però calcola che comunque con i soldi di un italiano la ci dividerei Quello, sì Ma anche l'Albania, eh Quello, sì Con la Romania Eh sì Siamo tutti riusciti a parlare Un mio paroletto spartano Ma io ho visto che ci sono anche dei posti Non mi ricordo se in Turchia o in India Che si paga poco Qual è? In India non ci andrei mai Troppo lontano Vabbè, in quei luoghi lì Stanno parecchi italiani che ci vanno Che costa poco la vita Ma non credo che sia l'India Sarà forse la Turchia Sarà la Turchia, sì L'avevo visto Non nell'arena Ne parlavano Che poi, vabbè La Turchia comunque confina con la Grecia E che non vai ai Caraibi? Ti apri un bel bar in spiaggia e vivi come un nababbo Eh sì Conosci un sacco di figa, ti ubriachi, te la spassi proprio Eh ma è lontano Ci vai e non torni eh Mica devi tornare tutte le volte Eh lo so Ma perché cosa hai qui per tornare? Cosa è che ti mancherà? Oddio, niente Vieni qui a trovare il Pirla? No Ma Però Allora intanto appunto Gli ne ha trovare cazzo Gli ne ha trovare Il problema con l'estero Il problema con l'estero è che appunto io non so le lingue Io al massimo potrei vivere in Svizzera Ma fai come il King Ma vedi il King com'è bravo con le lingue E non sa un cazzo Prendi esempio da lui Gli dici Save, Los Locos, Maracaibo, Cuba Libre Sì ma un conto è ci vai come turista e stai anche un mese Se ti arrangi ma se ci devi vivere Vai zio bello, zio bello Esatto Il linguaggio dei gesti, il linguaggio del corpo Infatti io non parlo di imparerci per sapere la lingua Tu alti dove andresti a vivere? Scontato ma in Giappone Sai la lingua? No E come parli con i giapponesi? Alti ma in Giappone vedi che non è tanto bello eh Vada è lì gente che non è del luogo non la trattano bene No amo Davy Kun che ce ne ha raccontati tutti i colori eh Ed era quello che aveva la figlia che gli bruciava i marga Infatti lui ci ha detto, lui ci ha consigliato Andate come turisti ma non veniteci a vivere Eh sì Pure al lavoro lo bullizzavano Pure al lavoro, pure la moglie Anche i suoceri, tutti Forse ho capito perché non lo trovo più da nessuna parte Ho un leggero presentimento E' diventato sushi E' diventato sushi Poi non penso che uno che non è giapponese abbia tante possibilità di trovare un buon lavoro Allora ho conosciuto qua una ragazza anche allora Lei è metà giapponese e metà bella Parla italiano perché ha vissuto solo dici anni in Italia E' praticamente visto al convezzo affidata lavorato però voleva Si sentiva voleva tornare a casa in patria In Giappone per essere vicino con la famiglia col padre Ragazzi ammazza è andata là E ogni tanto la sento ma Ha di turno il lavoro stressante E' guadagnare a durire Tu fai una vita abbattato sul lavoro Fingi il pezzo Andai a fare sul cervello Deppi le regole Andai ad unioni Fare quello Persone che ti volessero in strada Ah si Perché questi neanche hanno il tempo Di capire il cazzo fa giorno dopo Dove andare a durire Perché devo andare al lavoro E non c'è neanche il tempo per accompagnarsi Quindi vanno a stare da cercare la compagna per la loro vita Non te l'aspettavi Manu sei scioccato eh Ah no però non sta Salute Grazie Ragazzi 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 Salute! Lo scambiate? Scambiate gli starnuti voi due, eh? Sozzoni! Cosa c'è già che dovevi dire che noi dobbiamo sapere qua per forza? No! Secondo me questi due se la intendono Beccati! Voi sapete che ho una preferenza Barbie Girl No! Molto! Che cosa? Cosa? No! Davvero? Oddio! Ma da quando è che ti interessa Wolf? Da mai! Boh, lo dice zio bello! Beh, mi ha detto una cazzata Tu stai dicendo che fossero un bugiardo? Certo! Visto che tu non ammetti che mi stavi per far bannare dicendo una cosa E' vero! E' vero! Allora se qualcuno mi sta sentendo in chat state attenti che c'è un utente che si chiama zio bello che va nelle live altrui a dire robe bannabili eh! State attenti streamer emergenti! State attenti! Vi vuole distruggere! Lui è mandato da qualcun altro, è un sicario di un altro streamer che vuole distruggere i piccoli streamer Ma lo sa! Eh si! E' una collab! E' una collab per distruggere gli altri! Quanti i Plutti? Eh, un po' come il Pluto di ieri no? In questo mondo di Plutti! Eh si! Ieri è passato un altro Pluto! Che si dice a Necoland? Alti! Che si dice? Niente di che sto pestando! Niente di che sto pestando! Sì eh! Brava brava! Pesca pesca! Allenati! Che pescino! Va di tutto! Se mi sono in carattere a pigliare di che c'è altro! No! Ah no! Mi vengo! Ti vendi? Ti vendi? Cioè come ti vendi spesso a voi? Voi non abitate qua! Ah perché hai problemi a spedirlo? Non spedisci il pesce? Sai come è Kars che spedisce tutto il mondo? No! Male, male! Perdi grandi affari! Ah 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 ah! No, no, no Sì, sì, sì. Te l'aspettavi, Manu, di ricevere un bel raid oggi? Eh, no. Hai visto, eh? Se avessi ricevuto quello da 47, sarebbe stato un record. Eh, hai chiuso la live. Come fa a fartelo? Eh, ma tanto non me l'ha fatto. La live era ancora aperta quando l'ha scritto. L'ho aspettato. Secondo me, ma è proprio un pool. Cioè, stai usando dire che magari questo raid non esisteva? Sì. E qual è il motivo di Nierkaw? Farsi figa con un raid che non esiste. Eh, sento il burlo. Sì. Non c'è che ridere. Infatti, non fanno ridere queste cose. Ah, non c'è che ridere. Ring out! Ring out! Madonna, Alti come mette la testa dentro la switch. Che è? Si vuole fondere. Il depo cieca. Alti, sta a fare una fusione? No. Provai che ti fai più forte, Alti. Non ci vedi. No. Non ci vedi. No. leader. Ahem. 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 Quack! Quack! Alla prossima Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 compri. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Allora. Allora. a tutti. ... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ... 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 La soul di un warrior ora si resta qui per restare Sai che vuol dire? Eh che vuol dire? Ma cosa? Io non stavo sentendo niente di quello che hai detto Quando gli occhi mi si riuscì a fregare Eh che hai preso la bastrana? Che il fegato se ne sta per andare? Bravo Alti Cosa Alti? Il fegato Sì? Come lo sai? Hai avuto persone che avevano questi problemi? No Alti è un futuro nella medicina Grande Alti Attacco e difesa Eh prendiamoci sta roba Voi? No T'immaginavo che eri ubriaco infatti Vieni chiamata a farci sentire la tua voce da drincone Anche Alti la vuole sentire, vero Alti? Ma povero, adesso è bello stavo Alti sveglia come sempre, ci fa piacere, bravo Alti Tutti di sotto Shazam! Hai detto Marizzo Berluzzo? No, non cerco ancora Garzbratibus No, non cerco ancora Ring out! 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 Grazie a tutti. 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 forse. forse. a tutti. 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 forse l'ho trovata. Grazie a tutti. 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 Non lo trovo. No, sto cercando un granchio. No, sto vedendo una roba. Non lo trovo. Non lo trovo. No, sto vedendo. Mi sa che devo aspettare il prossimo mese, ho già capito. Cioè, il prossimo anno. E' addirittura? E' addirittura? No, sto vedendo. 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! No! Coralli? Che sono? Stelle marine? Sono... Non sono pesci ma sono tipo polipi e robe del genere... Ci sono scantini? No! Squiddy? Ci sono anche i granchi... Non manca nessuno eh? Ma ci sono troppo polipi? No! 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 Non sapete qual è il significato di quella canzone? Che l'altra volta l'ho fatta cantare da Alexa e l'ho sentita fino alla fine... Durata un casino ma ho capito il significato... Che spiega perché non esistono... Perché sono dimenticati di metterli nell'arca di Noè... E quindi sono estinti... Quello è il senso della canzone... Pensa che quante cose scopriamo... Eh? Chi se l'aspettava eh? Sono una di quelle notizie che... Purtroppo... Mi renderanno la vita... Sì! Sono gli mercenari dove minchia devo andare? Sì! Grazie. Non va bene, non va bene. Cosa? Cosa è bello? E basta con queste tartarughe! Sì. Il Pasol è tanto ninja? No. E non ci dà questa emozione. No. No. Cosa? 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 Il gioco fa le trappole, eh? Sto sozzone. Come si permette, eh? Come si permette? Il burrone senza fondo! C'è il burrone in questo gioco! Il burrone è sempre protagonista! Annal! Ma il burrone è sempre Annal? No lo so, questo è un burrone diverso, mi sa. Perché gli altri non possono essere mai come lui? Di burrone Annal ce n'è uno! Come lui non c'è nessuno! Nessuno, infatti! Annalccii! Ehi oh! Ehi oh! Ehi oh! Ehi oh! Ehi oh! Non puoi parare in eterno, hai capito? Ehi oh! che io che io Grazie a tutti. 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 Forse l'ho trovato. No. 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 Grazie a tutti. Grazie per la visione! 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 Penso fosse un'ostica Stai pescando? No, sono a fare immersione Un'ostica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo sapevi Alti? No. Hai visto, eh? Così ne vuoi comprare uno anche tu? Tuo soul surges in your body. Grazie a tutti. Oh. oh 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 Sì, non è vero. Ok, ciao. Io sa via. Io sa via. Niente, mi sa che queste due... Le trovate finalmente? No, mi sa che non le troverò mai. Hanno uno spawn veramente bassissimo. Da quante che stai provando? Da ore. Madonna. Ma tu sei sicura che appaiono lì? Eh, sì. Sono andata proprio... Ma non è che a quest'ora non appaiono? Devi provare in altri orari? No, tutte le ore. C'è scritto. Ho invertizzato questa cosa, Alpi. E ore e ore, manco una. Vabbè, le vostre che hanno uno spawn di 2 su 4. Non è assolutamente? C'è un'altra cosa? No, ha avuto! E tutto questo? E tutto questo? Sì? Grazie per la visione! Non riesco a scopermare! Il sangue è successo! Dove state presa il figlio del suo lato! Sto incontro! Ho trovato l'ostrica! E quindi ha il problema di avere un saluto! La soul di un warrior, ora si si resta per destra. Si vince e si perde. Ora devo trovare l'ultimo. Dai, tra due ore trovi l'ultimo. Vediamo se sarai tu prima a trovare l'ostrica o io prima a finire questa modalità. Sarai tu, sì. La sfida è accettata. Qua è l'ostrica, il grampio è bastardo. E questo... o lo trovo sto meglio. Il mese l'ho perso fino all'anno prossimo. Madonna. Quindi se il gioco lo compravi il prossimo mese dovevi aspettare un anno. Si. Quindi sono cose che magari hai perso e devi aspettare il prossimo anno. Tipo cose dello scorso mese. Si. Madonna, imbarazzante. Un po' troppo realistica sta cosa, eh. Ma nemmeno se cambi le date nella Switch, eh. Si, se cambi quelle, si. Vabbè, allora hai risolto. Però è barare. E sarà barare. Ma puoi aspettare un anno? Oh. E tu c'hai una vita, no? E devi pensare a quello. Magari te ne scordi pure. Passa il mese e devi aspettare un altro anno. Dai, su via. Diciamo cazzate adesso. Divertirsi è un conto. Ma questa è che è? Esagerato così. Allora, rotti l'esplorazione. Eccoli là, i rompi balli, sempre pronti. L'arena è scivolosa ed è difficile. Ok, forse l'ho trovato, forse l'ho trovato. Dai, 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 dai. Oh, Fortunella. Che succede? Uno dopo l'altro adesso? Eh, può essere anche che sono gli altri due, eh. Ah, perché stanno anche altre tipologie? Sì. Cioè, io devo trovare il granchio gigante del Giappone, poi gli altri due sono l'Aragosta e l'altro, non mi ricordo, che hanno sempre la stessa forma e la stessa velocità. Addirittura. Bravo. Notevole. E chi l'avrebbe mai detto? Siamo scioccati da questa notizia. Solo che i granchi e quelle robe lì sono troppo veloci. Non riesci a stare al passo, eh? Eh, no. Oh, no. ... Devi cercarli... Eh, devi cercare di... Mh... Niente. Oh. Questo? No, ho preso un astice e non mi serve Buono l'astice Tu lo sai preparare, zio bello? Tu lo sai preparare, zio bello, l'astice? No Ti piacerebbe? Ma dove lavori te? Qualcuno famoso ha aperto un ristorante? Lì in Belgio, non sai niente? Magari fai richieste e ti prendono, così fai un sacco di salvi Ok, cos'è? No, non ci credo Mi è andato male? Sì, ho preso di nuovo un granchio delle neve Ve lo cucini? È buono? Gnam gnam Questo lo vendo e mi ci faccio i soldi Ah, prodotto ricercato quindi Beh, i granchi qua si vendono molto bene Oh sì? Sì Quindi se voglio lo spaghetto Con le granchi, con un granchio e maggior mille che le posso dire bene No Oh oh eh venti ben arrivato quanto tempo ciao venti si si ora 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 ah hai già iniziato del ring eh ma venga qui a fare le live private no condivida condivida le sue avventure che siamo tutti curiosi di vederle in azione guarda guarda Ho detto, Ben ci devi passare a far vedere, poi mi aspetta a vincere, perché lei si utilizza una bimba, lei sarà d'accordo di prendersi una pausa. La scuola è la scuola. Eh sì, l'inizio si fa interessante in quel gioco Alty quando ha iniziato ha fatto una strage Li ha sconfitti quasi tutti Brava Alty È molto portata per Elden Ring Alty No Sì, tu sei stato ucciso da quasi tutti Allora Alty potrebbe farti da senpai così ti insegna qualche trucchetto Forse l'ho trovato Sì Può essere Venti portafortuna allora Eccellente Valedetto Ciocciate il caccio Infatti ciucciati il calzino Prepara di venti eh Qui manca poco eh Quindi può essere che domani Facciamo l'anniversario del canale Dei sei anni eh Lo farò intorno alle 21 21 massimo 21 e 30 Quindi cerca di esserci eh Domani porterò un gioco Che cercherò di finirlo Eh Quindi domani 21 21 e 30 Iniziamo E ho intenzione di portare un gioco Che voglio finire tutto domani Vedi tu Vedi tu vedi tu Noi siamo qui Tanto qui non manca molto Quindi sul calibro Lo finiamo a breve Vedi tu Maledetto che scappa L'hai trovato? Eh Non lo so perché scappa No Ok Sì Mamma mia L'ho preso L'hai preso? Oh Mamma mia E brava Per questo mese Ho finito Peccato che Il mese Sia finito Vabbè Tra l'altro Venti Nel server discord Ho messo dei suoni personalizzati Fateli sentire Fateli sentire A venti I suoni del server nostro Scatenateli tutti Senza pietà C'è anche altri Che fa il ciuccio La Madonna Solo per coloro che sono da noi Solo per coloro che sono da noi potranno soffrire di questi suoni Suoni magici e meravigliosi E non sappiamo perché altri non può farlo Questo è un mistero E non sappiamo perché altri non può farlo Questa è un amici Questa è un amici Un amici Un amici Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, e ora andiamo a pesca. Ok, dovremmo essere nello scontro finale ora. Allora, la carica dell'anima dell'avversario è sempre attiva e la sua barra dell'anima non si consuma. Mettiamo un cibo, va? Ok. 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 Primo round è il nostro. Preso in pieno. Oh le! Anche il secondo è il nostro. Manca uno, ne manca uno. Un po' di tipo, un po' di tipo qui. Oh mi raccomando eh, non siete troppi eh. Non siete troppi eh. Eh, ha vinto lui. Però ce ne siamo ancora in vantaggio. Ma anche? Allora fai la pupù? No ci sono. Un po' di tipo, anche su. Dai il fratellone che ce la fai. E niente, ha pareggiato eh. Siamo due a due. Non ce la faccio, voglio il delirio di suoni eh. Mi raccomando. Sì ma para, no para cazzo. Ah cazzo. E niente, è andata male. Riproviamo. Ma questo passa da essere un manichino ad essere uno che non si ferma più. Una cosa allucinante. il volero non esiste è un'invenzione il volero non esiste il volero non esiste il volero non esiste il volero non si ferma più ma guarda che cornuto è incredibile e cadi di sotto no e cadici di sotto ebbe niente non l'ha fatto la tripletta ma l'ha fatto stavolta peccato prima perché stava andando bene mancava un rambo il volero non esiste il volero Dai, dai, da tutto quello che ho fatto, fammelo vincere sto round Eh, che cavolo Minchia, ho vinto con la vita vuota proprio Guarda, alti, guarda Non so nemmeno come ho fatto Non avevo vita Ero praticamente morto Non è ancora il momento, stai buono Non è ancora il momento, devo vincerle tutte Che cazzo fai, mi porti sfiga così tu Mi porti sfiga, mi porti All'ultimo, all'ultimo Stai buono, mi porti sfiga Ok, ok Siamo di nuovo come prima prima Ne manca una Occhio Colpito Oh ragazzi, eh Forse ce la facciamo, eh State cari, anche tu alti, eh Che se vinco deve fare il delirio di suoni Ve lo dico, tutti e due deve farlo senza pietà Ho battuto Via, via Scatenatevi Il delirio, il delirio Tutti, tutti Basta, basta Ora guardiamoci il filmato finale, va Madonna, che bestia Ma chi cazzo sei Eh, tu alti l'avresti ucciso subito, lo so Ma io non sono te Ho ancora molto da imparare Ma io non sono te Grazie a tutti Grazie a tutti Ti va a denunciare dopo, stai attento Tanto Alticon ficca la testa dentro la Switch, ma che carina Fa una Fusion, una Fusion con la Switch Eh sì, l'abbiamo finito, l'abbiamo finito Quindi ragazzi è ufficiale, eh? Domani cosa ci sarà, Antti? L'anniversario Esatto, esatto Domani è anniversario del canale Dalle 21, massimo 21 e 30, iniziamo No, devo iniziare presto apposta perché devo chiudermi a finire un gioco in una live, quindi non posso iniziare tardi Che alle 7? Io ho da fare anche i cazzi miei, scusa E che vuole Non posso, non posso, ho da fare Devo mangiare fuori domani E tanto se riesco a tornare alle 9 e mezza Ma mi impegnerò per le 9 e mezza Forse anche prima No, 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 domani, domani Prima live che ci fu il 4 febbraio del 2017 Quanti ricordi? Cosa è allora? Non posso aspettare un altro anno, scusa Ma chi se ne frega, facciamo domani, è simbolica tanto Sono comunque 6 anni Sono comunque 6 anni, no, 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 no Il popolo ci vuole domani, vero, Antti? Sì Eh, esatto, stanno qui fremendo Che non vedono l'ora di quello che devo fare Antti, non dire nulla, eh, non spoilerare il gioco È segreto Ma l'ho detto miliardi di volte Sì, sì, ma la gente si scorda, Antti Dobbiamo giocare su questo fattore Che noi siamo circondati da una marea di rincoglioniti Hai capito, Antti? Non te lo dimenticare Poverini Stai crollando dalla gioia, Venti, eh Venti è molto emozionato, eh Ti capisco Ma ti può saltare sta roba? No, siamo obbligati a vederlo? Salta, ecco, a cagare Venti è molto emozionato Venti è molto emozionato Venti è molto emozionato Ce n'è 5.000 da capurare sto mese Altti Sempre tutto esce, ma sempre bene Ovviamente ricordiamo che il prossimo Annal Tournament, lo dico anche a te, Venti Sarà su questo gioco qui, eh Su Soul Calibur 6 Quindi state tutti pronti, eh Preparatevi a scegliere i vostri main A utilizzarli e vediamo se vi porteranno verso il trionfo Che abbiamo visto che anche qui c'è l'automatico Ah, una bella partita di Risico Online Eh? Una bella partita di Risico Online Risico? Ah ah Che ce l'ha a Risico? Online Eh, non ce l'ho, non l'ho comprato Risico Che vuoi da me? Regalacelo tu Cosa? Tu ci sei regalato un gioco Ce lo facciamo regalare da mano Ha detto che tu ce lo regali Eh, ma chi ha detto che tu ce lo regali? Quindi è finita così A posto Emozionato Io non so su cosa parlate voi E adesso per sfizio, prima di chiudere Ci facciamo un arcade Con due B Che ne dici, Altti, eh? Sì Eh sì, facciamoci un bell'arcade Duello Arcade Normale, va bene Impostazioni attesa Ma di che? Lui sta via Inizia Eccola qua 2B Colore originale, ovviamente Così ci rifacciamo un po' gli occhi E' una battuta pessima Tipo che battuta? 2B e 2D Ma io far finta di niente, vale? Tu l'hai capita almeno Dici, dici, alti Dici questa bella battuta Perché 2B E' in 2D 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 Che risate ragazzi Stiamo morendo tutti K.O. Io vado due secondi in banno Vai, vai, vai A divertirti Intanto ci guardiamo una bella super mossa di 2B E' in 2D Olè, è il primo è andato Brava 2B Minaccia ostile eliminata Gloria all'umanità Cosa? Perché stai sempre a nominare quel film? Quale film? Quello di prima Cioè? 2B è un film? Quello inizia con l'O E finisce con l'E Ma vai A cagare vai Meriti manco una risposta D'accordo Ricordati di domani eh Ricordati di domani Live anniversario Per i 6 anni del canale E viva 2B E viva 2B E domani ti rifai gli occhi Cosa vuoi andare al collegio? Sì vuoi andare a fare il collegio sulla rai Vati 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 che la prendono subito Magari come il bidello Alti E' bello vuole andare al collegio lo sai? No Dove te lo prendono? No Come il bidello Come il bidello dico Eh lui ci rientra come età bidello E' troppo vecchio Come per fare il bidello Non è troppo vecchio Ah per fare il bidello no Però non credo di serva Come no Ce l'hanno i bidelli eh Cosa se un bambino si caga addosso Ti pulisce Il bidello Cosa vuoi fare? Tu vuoi andare a fare Dalla bamba Sei Super mossa guarda Alti Guarda la super mossa Guarda che bello Bel danno Bel danno Potrebbe rientrare nei papabili per te Alti Questo personaggio Sì ma l'avevo già scelta Dall'inizio Sì Ok Sì E anche questo se ne va Ma guarda l'ho detto Bisogna vedere Perché può essere che io lo lascio In fondo lo sta portando in live Sta portando contenuto Poi è meglio che gioca ai giochi miei Che gioca ad altre cose di scuola Inscutibili alti sa Eh sì abbiamo già capito Quindi preferisco più che gioca a cose belle Guarda la mia è una missione Della salvaguardia della giovane No Cosa no Alti Domani non porto il formula 1 Perché dovresti portare il formula 1 domani Non so nemmeno se ce l'hai Hai formula 1? No l'ha detto Ziobello Ah ho capito Ziobello è impazzito E non lo ferma più nessuno adesso Io ho detto Gioco con la F Il fatto che è formula 1 No 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 Alti non porta formula 1 Alti non lo porta formula 1 Rassegnati Capisco che è il tuo gioco preferito Ma non lo porterà formula 1 Magari formula 2 Formula 3 Staremo a vedere Vero Alti? No ma che fai? Che fai? Cosa schivi? Fatti colpire Maledetto Tu e il tuo spadone Pussa via Pussa via Bubusette te Beccati questo Che io Che cozzarone Cars Braticus La foto che hai messo con il gruppo? Sì Tu come sempre sei un po' speciale Non hai messo niente nell'anagram Ma perché sbagli sempre? Sì Sto lì Ah ti mai notato? Sbaglia sempre lui Sì Mette sempre in altri gruppi E crede che siamo noi Forse lui crede che tutti i gruppi siamo noi Non lo so Ma vai a vedere Vai a vedere Invece di sparare minchiate C'è ancora il canguro Che si gratta le palle di mano E guarda come se le gratta potenti Anche tu Alti Ti gratti le palle così? No Uffo Qui sotto Ring out Madonna che combo Devastante Bella Bella Ci piace Ci piace questa 2B Gigi Gigi La trottola Una multa Ti multo Ti multo Zio bello Ti multo Per tentativo Ti ban Nei confronti di mani Ha fatto un errore Imperdonabile Nei suoi confronti Lui ci teneva Ci teneva Ad alietarci Con delle live Meravigliose E tu l'hai punito Attenta Alti Non ti fidare Zio bello E tu potresti essere La prossima Siamo tutti a rischio Con lui Anche io In questo momento Sto rischiando Quelli di Twitch Ci osservano Ci osservano sempre E' pieno di fluti In questo mondo Stai giù Stai giù Grazie E vai giù E vai giù Ma cosa vuoi fare Pussa via Pussa via Vada retro Panzerotto Bra soffia Soffia il naso Soffia il naso Sto combattendo Guarda tu Alti Almeno mi confermi Se l'ha messo veramente Che lui fa il furbo Io ho due secondi Sto pescando Tanto a quello che dice Non dire parole Bannabili Tu Ah ok Quello Ma come schiva Sto maledetto Ma chi sei Poi Più fratellone Cosa Che cosa Alti Che è successo Boom 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 Cosa Alti Che succede No niente Stavo parlando Quanto è bello Eh ma hai nominato a me Che ho fatto io No che tu hai messo La foto modificata Di Freddie Mercury No il primo piano Avete visto Il primo piano del culo Avete visto Stizzo Qua si è girata a tradimento Proprio quando stavo A guardare le mutandine Si è girata Questa Questa è fanservice Palese Ragazzi Perché lo sanno Che girava quel meme Che tutti guardavano le mutande Beh mica male Sì Le vorresti delle mutande così Come starebbero a mano Queste mutande Secondo voi Voi immaginate mano Che fa il cosplay di 2B Madonna Muy sexy Vai sull'analgram E poi a controllare A controllare? Vado a vedere se sono un bugiardo Altì ma glielo devo dire io O glielo devi dire tu? Cosa? Eh vai nell'analgram per fuori Rispondi tu a zio bello Perché non comprende lui Alle 11 e 43 Cosa alle 11 e 43? Ambiate il messaggio Ma alle 11 della mattina? No di sera È impossibile Perché alle 23 e 40 L'ultima è di mano Col canguro che si gratta le palle Alle 11 e 43 De mattino Ma perché dobbiamo vedere Una cosa che hai messo di mattino? Ma tu sei fuori di testa Sei Ma cos'è? Assaggia Ah questo l'ho visto Guarda io le vedo le cose eh Ma pensavo che era una cosa Che hai postato adesso Ma tu mi parli di una cosa Di stamattina Ma chi ci pensava? Altri tu ci pensavi a sta cosa? No È come se dicessi eh Vai a vedere quello Che ho postato una settimana fa Vedi lei Sì è bello veramente Non ci sono cure Non ci sono cure per salvarti Guarda Sei destinato a rimanere così Tutta la vita Mi dispiace Sì sì Io ti tengo d'occhio Tu ci fai bannare tutti Prima o poi su Twitch Rimarrà solo Zio Bello Che andrà in live E si guarderà da solo Lui sarà streamer E sarà spectra Allo stesso tempo Brutta storia Brutta storia Però per questo Mamma Tu vuoi diventare la regina? Io diventare la regina E chi è il tuo re? Cars? Che solo due vale No no Diventa Cars Io lascio tutto a lui No no Guarda che Cars Cars è a secco adesso Ma poi ce l'hai già la regina tu Tu sei l'amante focoso di Barbie Girl Certo Certamente Guarda L'abbiamo beccato Aia Questa la perdiamo Sempre a pararti Stai Ma la smetti? Vediamo Vediamo Forse va giù Eh sì Eh sì Abbiamo vinto Per un soffio Ma abbiamo un bel great qui E anche Sofitia Ci saluta 2B Invincibile ragazzi Che bestia Che bestia Minaccio stile eliminata Dai Regalaci altre inquadrature simpatiche 2B Emozionaci tutti Eh bravo Io sto gioco Però lo devo finire Nivello 6 Secondo boss Sto bloccato Perché sempre lo vide L'ho formattato E non lo ha mai iniziato Ma qual è il gioco? Eh Mi ha raggiunto Eh figo figo Molto bello Molto bello Tosto Ma molto bello Poi ho scoperto Io ho scoperto Dei bei trucchetti Per renderlo più facile Quello gioco Certo Certo Hai visto quando tu Hai visto quando tu devi assemblare Il bonus del personaggio Eh io ho fatto Una cosa Che ho messo L'elemento regen Quindi ogni volta Che attaccavo O facevo Delle mosse particolari Mi curavo in continuazione Capito? E facendo così Il gioco è diventato Una cazzata Guardalo Quando fai le composizioni Falle queste cose Il gioco diventerà facilissimo Cure infinite Ovviamente Se ti toccano In continuazione Rischi di morire Devi cercare di stare attento Sia chiaro Però vuoi mettere A avere le cure Quando spari Colpisci i nemici Eh Tanta roba Bravo Vai vai No No Filick Stai buono Filick Via Galvo Signore Ti faccia pestare Per bene Ma come pare Stai buono Sempre a parare Stai Io sto giusto Per le feste A te Beccati questo Vai giù Vai di giù Signorino Bu bu Buu Mi daos Prossimo round Prossimo round Tutti in carrozza Mozzarelle in carrozza In piedi signore Che la devo colpire Eeeh Pari 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 ancora per poco E tra poco ci saluti pure tu Lo posso assicurare Ecco Intanto beccati questo E vai giù Ring out Perfect Ultimo round Ultimo round Prepariamoci Prepariamoci Alle botte da orbi Me lo parerà Non me lo parerà Me l'ha parato Eh Dobbiamo provare Eh Non è sempre Natale Qui Che ci vuoi fare Eeeh La presa E me l'ha tolta Vuole resistere Vuoi vincere Filick Non vincerai Te lo assicuro Ma te lo assicuro proprio Non c'è spazio Per i dilettanti Eeeh Eeeh E anche Kilick Ci saluta Bye bye Rapporto oggetto recuperato Che cos'è? Una multa Aia Capisco Eh Abbiamo preso una multa C'è anche a 2b Purtroppo Chi è il prossimo? Livello 7 Taki Mi sembra Una multa Spera che non mi arriva Il giornino a multa Perché se mi arriva Il giornino a multa È colpa tua Eh Che ti aspetto Che vuoi da me? Che centro io? Massimo è colpa di Manu Ma è Manu che ti sa fare Le macumbe Mica io Eh Non ti fidare Ma è concentrato più Se un'altra persona Ora Stai buono tu Non dire cose False Non fare falsa Testimonianza Che qui c'è gente Che ti osserva Ora è concentrato In un'altra persona Pam 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 No No Non dopo quello Che hai fatto finora Eh Non dopo quello Che hai fatto finora Non esiste Ma proprio non esiste Vai giù Colpisci Colpisci In modo potente Potente E preciso Una vera macchina di morte E un round Se ne va Andiamo col secondo No 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 Bussa via Come hai fatto prima? Fai quello che hai fatto prima Questa fa delle combo Veramente illegale Assurda Che potente Qui nessuno ci capisce niente Alzati in piedi Come farti la super mossa Voglio concludere in bellezza Perfetto Questa te la dedico a Tutta per te Raggio laser Boom Impalamento E andiamo con l'ultimo round Contro questa fantastica Taki Che non riesce a fare Una ceppa di minchia Contro due bini No 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 Così si cade di sotto Oh stai attento Facciamo scherzi Tutto quello che hai fatto Cascare di sotto Non rientra nei nostri piani Stai parata Stai parata Che questa si vuole vendicare Dalla tipica faccia Di chi si vuole vendicare Super mossa Entra 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 Perfetto Bye bye Taki Easy win Stiamo vicino al final boss Dell'arcade Dai prepariamoci Non manca molto Cosa parà adesso Cosa parà Ancora una multa Ma sempre multe Uno sgombro stavolta Allora cambiano le cose Volete un po' di sgombro Offro io Sì grazie Chi è il prossimo Dai abbiamo finito Ancora no Livello Quanti sono E che ne so Io l'ho trovato per terra E cucinalo tu E fattelo tu Io non posso Non mi sono mai I miei vicino A cucinare Impari Impari Vediamo chi è il prossimo Notte I pugni I pugni Fai i pugni No Perché sei caduto di sotto Ma perché Stavo vincendo Maledetto burrone Maledetto burrone Che non è il nostro amico Questo gioco il burrone Non è il nostro amico Capito Questa cosa non mi piace Il burrone è roba mia Capito E non posso finire Il mio stesso burrone Notte 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 Mi raccomando domani È un gran giorno Buttalo giù Buttalo giù Abbiamo pareggiato Uno a uno Ma è ancora tutto aperto Quindi stiamo calmo La festa Non è ancora finita A poco mi ti faccio la super mossa Mi fai questo Tu sei un vigliaccio Eh di sotto ci vai tu stavolta Sono andato pure io Ma tanto con te il primo Quindi c'è andato lui Quindi ho vinto Siamo passati in vantaggio Ragazzi Dai 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 Calmo Ehi Ehi Che è Tasta violenta Stai canto Anche se È una macchina Ha pur sempre le sembianze Di una bella signorina Capito Ci vuole rispetto Educazione Tieni le mani a forza Capito Porco Ma che fanno Se avevo distrutto No Sembra un'altra mossa Vabbè comunque abbiamo vinto A forza E ora Vediamo che finale c'è Oggetto recuperato Che abbiamo recuperato stavolta Una multa Ah dai dai Era meglio lo sgombro Sempre multe Ah ma è finita Ah ma quindi il final boss È uno casuale No perché ti spiego altri Solitamente in questo gioco Il final boss Era sempre uno particolare Capito Uno cazzo Invece qui a quanto pare Il final boss Può essere chiunque Del roster del gioco Comunque abbiamo finito L'arcade in 10 minuti E 17 secondi Non male Non male Non abbiamo manco perso Una volta Tra l'altro Buono buono Allora come ti sembra Questo 2B Ti sembra tanta roba Sì Hai visto Che combo Allucinante Non respirava nessuno Qui Bello bello Ci piace Ci piace Ci piace questa 2B Allora Allora Sai che facciamo Per concludere Cosa Facciamo un automatico Io contro di te Ti va Sì Ok Mettiamo Numero di round 5 È proprio Ignorantella La cosa Tempo infinito Difficoltà Molto difficile Tipo di duello Normale Normale Ok 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 Vai Scegli prima tu Chi vuoi Raftalia Lì Come cavolo Si chiama Come Raftalia In che senso Sofitia Sì Mi piace Sto personaggio Vediamo i colori Colore vuoi Ah pure Morasta C'è anche dark Arancione E classica Arancione dai Ok Allora Io scelgo Vediamo Un po' Inferno Giocabile Incredibile Questo personaggio In passato Non era mai Giocabile Vediamo Ah Questo qui Lo vedi Questo qui Strano A destra Sì Questo qui ci rappresenta È il personaggio italiano Del gioco Ah sì Me l'avevi già detto Che bello Noi siamo rappresentati Da questo Ci vedono proprio bene In Giappone A noi Ah scelgo questo Va che è un personaggio collab Visto che non si è mai visto Lo utilizzo io Così mi piace Stage casuale Il tuo personaggio C'è ancora o sei sparita No ci sono ancora Ok Vediamo un po' Come comincia Primo colpo Per Sofitia Iniziano a prendere Il largo No Ancora Sofitia Aspetta che forse Inizia la rimonta Ring out Peccato Alti Peccato Il ring out Ti ha fregato Per ora 1-0 Per me Vediamo il prossimo round Perché ricordiamo Che in questo gioco Si può anche cadere Dal ring Non ce lo dimentichiamo Calcio nelle palle Giochi sporco tu Mi stai facendo il culo Mi devo ripare Sveglia Sveglia Aspetta che stai rischiando Super mossa Ma che ha fatto Ma che ha fatto Si è pompato Eh Non è servito a niente Ebbene Ci abbiamo provato 1-1 1-1 Scontro apertissimo Direi Come sto in difesa Io Sto proprio la strizza Dai dai Una presa Andata bene Aia Eeeh Alti Fa qualcosa Fa qualcosa Sempre i calcini Le palle Maledetta Aia Aia Uuuuh Vittoria di alti Vittoria di alti 2-1 Per lei Aiaiaiai Stiamo rischiando Qui Stiamo rischiando La situazione Si fa sgradevole Trocca a essere aggressivi Altrimenti qua Finisce male Ancora alti Questa sofitia Non la ferma Proprio nessuno Eeeh Aomaru Concentrati Guardagli meno Il davanzale E combatti Per favore Oh Oh Dai dai No vai Bravo Ah forse Due pari Si è riaperta Perché? Ma quel volero Me l'ha rischiettato Adesso? Alti? Boh Che ne so Eh Mi sa di sì Dio bello Mi hai rischiettato Adesso Quel volero Eh furbacchione Questa super masca Ha fatto male Mi hai annientato Eh allora Andiamo a bere Tanto non sto giocando Che me ne frega Sì Oh ma tu ti vuoi curare Ogni tanto si cura Il personaggio Il mio? Sì Ah interessante È una cosa da non sottovalutare Allora questo Comunque situazione Di vantaggio Operanti Una parata dopo l'altra Madonna Ma questa soffita È monstruosa Eeeh Una combo dopo l'altra Però qua Combiniamo ancora molto È bello che il mio fa il delirio Poi arriva il tuo Non voglio male Cioè se eri tu A fare quel delirio A fissura Io ero già morto Eh non capisco Ma il mio personaggio Non fa danni Non mi capisco Ha vinto Era ora Ma di che hai fatto Asofisia È un essere umano Siamo sicuri Mi sono stati ad avere Dei dubbi Tra l'altro La sto spogliando E sto levando tutto Ma tra l'altro Tra le ultime mod Che ho scaricato Del giochino Del giochino che porto Domani Non ho trovato una Che ovviamente Non porterò mai Su Twitch Dove praticamente Usi una tipa Super prosperosa Completamente nuda Oh wow Però rosa Quindi non si vedeva Non si vedeva manco Il personaggio Oh ok Sì probabilmente L'avranno fatta apposta Non lo so Oh super mossa Ragazzi Niente male Niente male Devo stare attento Un altro round Dove sono a casa Sono a casa Ammazza però Quanto Quanto tempo E arriva il pareggio Ragazzi Che scontro Anzi era vicino alla vittoria Invece non è successo Scioccante Si inizia con una presa No Ecco Fa le finte Questo quando fa le presa Ma che cos'è quella cacata Scusate Sperva niente No no Stavi parando Ma che combini Sempre in difesa Stai Attacca Dai E che fai Dormi Sveglia Ma dai Quella non sta lì A guardarsi allo specchio Oh la stai per far cadere di sotto Un peccato Peccato Eh vabbè Sveglia 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 Una carezza Una carezza No Eh vabbè Fatti un altro sonno Dormiglione Eh un po' un dormiglione Questo qua Me la dai la rivincita? Eh? Eh dico Me la dai una rivincita? Si Ok Allora cambio Perché questo qua Veramente Dorme troppo Per i miei gusti Io io ho gente sveglia Che caso Allora Seleziona personaggio Mettere soffitti Altro che dormire Quella probabilmente Non batte neanche le palpebre Ok dai A te l'onore Scegli sempre tu per prima Quale vuoi? Allora Te le faccio rivedere Che ne so Quella Con Che ha Le due personalità Ah ok Tira Eccola qua Ti piace dire i colori C'è questo 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 E questo E questo E questo Quale vuoi? Eh Due Ok Invece Sta botta Per la gioia Di tutti Vado di Ivy Vediamo un po' Vediamo un po' Rossa non è niente male Massimo Una bella rossa sexy E bionda Ok Casuale Vediamo Vediamo Stavolta Scontro fra femmine E che femmine Femmine fatali Possiamo dire Queste sono fanciulle Con cui non bisogna Scherzare troppo Se no si rischia la vita Ah si Ah Combattiamo a Kaer Morhen Questa è un'arena Dedicata a The Witcher Ci piace Ci piace Questo luogo Eh Questa tira Senza pietà No Anche se tu Sei avvantaggiato La cosa? Che mi allungo? La tua spada Si Eh però Adesso sto rischiando E da vicino Rischio io Da vicino Rischio tantissimo Io Troppo Eevee Non è molto intelligente Ha un'arma che si allunga E combatte da vicino Strategia Geniale Devo dire Brava Complimenti Mi sa che Ivy Non è stata una bella scelta Contro una come tira Eh Sentimento Che qui mi fa il cappotto Eh vabbè Almeno mi rifaccio gli occhi Dai Mi vinceremo almeno una Per te pure la super mossa Eh ovviamente Potevi pararti Ovviamente no Eh vedi vedi Quando sono lontano Ti faccio nera E' una vittoria Eh ovviamente Lì da lontano Giusto per quello No non si avvicinare Che rischi Rischi Eh non lo capisce Eh si avvicina Mamma mia E' bello che la difficoltà è massima Quindi dovrebbe avere un po' di intelligenza Infine ad avvicinarsi Vabbè vuole perdere Va bene Cioè almeno l'altra è stata combattuta Ma questa è proprio il nullo Che schifo ragazzi Ivy mi deludi eh Mi deludi tantissimo Ivy Vabbè capita Solo fumo qua Solo fumo Guarda fa pure le smorfe il tuo personaggio Ti permette il gusto anche di fare le smorfe Ma perché i miei personaggi non si muovono Perché i tuoi si muovono di più Ma come funziona questa cosa Mi sono messi d'accordo Mi vedo veramente passivi i miei personaggi E' allucinante sta cosa E' un miracolo che ne ho vinta una E' una presa Che è successo? Che è sto miracolo? Qualcuno si è svegliato? Eh ora ti butta di sotto Guarda Non c'è solo quello Eh tutte queste belle mosse Falle un po' più spesso però Cioè io non ho mai visto che roba Cioè finora gli hai fatto il culo Ora sta roba qua Ma come si spiega? Ma è inspiegabile Ma non puoi essere sempre così Magari si sveglia all'ultimo Ma Tutto c'è strano Ah io è super mossa E ovviamente non la pari E perché avresti tu Mi sembra giusto Commetto che se la faccio io Ma la pari Io vi ricordarti che se ne perdiamo un altro L'abbiamo perso E niente non ce la fa Eh va a rilento Ivy Vai gg per la nostra alti Qualcosa mi dice che Ivy non rientrerà fra le scelte di altri Chi lo sa Magari lo usi tu e vinci a mani bassa A posto Vogliamo fare la prova? Ok no 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 Lasciamo perdere Non voglio turbarmi più del necessario Direi che questo gioco ci può salutare Allora allora Mettiamo un po' di musica a chiacchiere Mettiamo a posto il nostro arcade stick Che per un po' se ne va in vacanza Anche perché mi sono fatto abbastanza muscoli alle gambe Quindi Ecco qua Ma tu stai ancora giocando? Non ho capito No no L'hai chiusa? Sì Allora te la levo Ma me lo potevi dire? Eh vabbè C'erano gli scontri Ah ok Vabbè posso metterli in pausa? Ecco fatto Allora un attimo che Metto a posto sto mattone polacco Che mi sta distruggendo le gambe Dove un po' Cazzo 4 ore e 28 questa cosa sopra Ha un suo peso Ok Comunque dai in generale Come ti è sembrato questo picchiaduro? Carino Parti i pipponi eh Ma sì è divertente Poi ti farò vedere un filmatino del picchiaduro che compro domani Così vedi meglio di che si tratta Ok Mettiamolo qui Uff Allora 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 Chi è? Chi è rimasto? Vediamo un po' C'è zio bello Ci sei tu Dice 4 Chi sono gli altri? I modi di fantasia A me dice 3 Dice 3 Chi sarà? Chi sarà il terzo eh? Che furbacchione Che ci osserva in silenzio Boh Sei tu con due account? Eh? Mi aumenti le persone alti Che carina No io non ho due account Chi è? Chi è fra i tuoi bot? Chi si nasconde qui? Dunque scrivi Scrivi in chat Così almeno ti appare La cosa della tua live no? Spammati un po' Un po' di spam per la nostra alti Ecco qua Vediamo cosa appare va Ah era quello dei mecha? Cos'è? Sì Ah ok ok Interessante Interessante Allora alti Vogliamo ricordare domani Cosa succederà? Beh domani Faccio la live Esatto Quindi prima spamma di tu E poi parliamo dell'altra cosa Vai A te l'onore Beh domani ci vediamo Con un'ora di legends Un'ora di animali Animal crossing E due ore di death can be Vediamo se sarà così Visto che l'altra volta Hai fatto più di un'ora di legends Smontando tutto Quindi fai le cose per bene Mi raccomando Sì sì Ok Quando inizi? Alle 5 Esatto Alle 5 fino alle 9 Quindi se volete vederla andate a quell'ora Poi dopo che succederà? Dopo la tua live? Ci sarà la tua L'anniversario Eh sì Eh sì Festeggiamo in modo simbolico Perché la data non è domani Però vabbè Sono sei anni Non l'ho mai fatto Quindi per sfizio E vabbè anche io l'ho fatto un giorno in ritardo Esatto Io più di un giorno Però vabbè Sono sei anni lo stesso Quindi non l'ho mai fatto Quindi mi sollevato sto sfizio Dai Facciamo sta che ho fatto anche una cosa carina Poi vedrete Cosa proveremo a fare In questo anniversario di domani A finire un gioco in un'ora Cioè in un'ora no In un'ora non ce la faccio In un'ora live In un'ora live Lo so più o meno a memoria Ma le tempistiche non mi aiuteranno Ovviamente skip però i filmati Però in un'ora non ce la faccio proprio Ti ringrazio perché credi in me Ma fino a questo punto non ne sono capace Sì in una live Infatti inizieremo presto Fra le 9 massimo 9 e mezza Vediamo perché ho una cena Però cercherò di sbrigarmi E sì Inizieremo un po' prima del solito E proveremo a finire questo gioco E non ve lo diciamo qual è Nonostante era stato già detto Però noi giocheremo sulla vostra mente bacata E non ve lo ricorderemo Domani però vedrete Vedrete Vi farete tante belle risate Speriamo che saremo un bel gruppo ricco e felice E poi torneremo con un nuovo titolo Dopo quello di domani Porteremo un nuovo gioco E quello possiamo anche dirlo E qual è il nuovo gioco che porteremo? Quindi dopo domani Non lo so Solstice no? Hai presente? Quello tipo di My Cry che ti ho fatto vedere? Ah sì Esatto esatto Porteremo quel gioco Sembra molto figo Vediamo se sarà così Quindi vai con i saluti intanto tu Alti Bene quindi noi ci vediamo domani Buonanotte Ciao ciao Esatto 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 Domani con Alti Ricordatevelo Se non vi presentate siete delle cattive persone Anche perché lei si impegna Quindi detto questo Sono in tre Eh boh facciamo un raid simbolico dai Facciamo un raid simbolico a qualcuno Ma io lo faccio sempre il raid Anche se sono due persone Una Che gentile Allora vediamo un po' Vediamo un po' In italiano Chi abbiamo Allora Questo l'abbiamo già fatto Dobbiamo essere rapidi Se no quell'una di troppo se ne sparisce Vediamo vediamo Oh quattro ora Quattro Hai visto? Allora rimanete Rimanete che ora parte il raid Gioca con off duty Questa non si sa Questa sta facendo quattro chiacchiere Ma potremmo andare da questa volendo Massiva Ok Anche perché questa altre volte Porta anche i souls Andiamo da dark lady Vediamo cosa ha portato di recente Ah dark souls 3 Direi che ci sta Ok Allora vi mando da questa ragazza Che ha iniziato anche da poco Quindi ipotizzo che poi Inizierà con dark souls Credo Fa anche smr Vedo Che brava Allora 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 Prepariamo il nostro bel raid Ricordatevi domani La live Anniversario Dei sei anni Non mancate Vediamo un po' Se è partito Se Se dovrebbe essere partito Perfetto Perfetto Quindi Dopo alti Verso le 9 Massimo 9 e mezza Ci becchiamo Tutti insieme E si festeggia Quindi per oggi è tutto Dal vostro light Hasta la vista Bis haut Ciao Allora Grazie a tutti.